Era ed è doveroso, è stato un grandissimo personaggio del nostro calcio e ho avuto solo la possibilità di trovarlo da avversario sulle varie panchine, però anche per quel poco che ho avuto la possibilità di conoscerlo attraverso il suo modo di fare, le sue interviste, ho sempre dimostrato di essere una grandissima persona e poi devo dire che ha fatto la storia del Pisa e quindi per quanto mi riguarda oggi era vero ed è doveroso che sono qua, a fargli un saluto. Che immagine hai di venire in un signore sulla quantina? Un signore, quella che hanno tutti, io credo che tutti più o meno dicano le stesse cose, quindi se diciamo tutti le stesse cose, abbiamo tutti le stesse sensazioni, vuol dire che sono quelle di un grande uomo, di una persona seria, di una persona per bene, di una persona umile, di una persona capace, tutte quelle che sono le qualità che si possono trasmettere in un mondo come quello del calcio dove non sempre è facile, non sempre è semplice anche riuscire a mantenere l'equilibrio e la serenità, lui è uno che invece da questo punto di vista ce l'ha assolutamente insegnato.